Celebrato a Bari il 163esimo anniversario della fondazione dell'esercito italiano che dal 1861 ha dato vita ad una storia gloriosa contraddistinta da amore per la patria, senso dell'onore e del dovere, professionalità e altruismo. La cerimonia si è svolta il 3 maggio presso la caserma Picca di Bari. Nell'occasione è stata deposta una corona al monumento in onore dei caduti in tempo di pace e di guerra nella Galleria della Memoria. La celebrazione è stata anche l'occasione per consentire la visita alla storica caserma Picca, compresi i rifugi antiaerei da poco resi fruibili e per la prima volta aperti al pubblico. All'evento sono intervenuti il colonnello Muro e le massime autorità civili, religiose e militari del territorio.